Il mio non vuole essere assolutamente un atto d'accusa, ma sollevare un problema che come sindaco sul territorio sento sempre più forte. La presenza di potenziali soggetti che possono essere infetti o positivi e che non vengono seguiti, non vengono controllati. Io capisco la difficoltà della sanità di seguire i casi negli ospedali, la drammaticità di questi momenti, ma dopo un mese occorre cominciare un po' a pianificare di più la prevenzione sul territorio. Faccio questi esempi. Chi ha febbre a casa per qualche giorno e non viene visitato, viene magari sentito telefonicamente dal medico, dopo qualche giorno la febbre gli passa, questa persona immaginando di aver avuto giustamente una semplice influenza, poi esce e va a fare speso oppure torna al lavoro. Ecco, potrebbe essere un positivo e non lo sa, ma ci sono casi sul territorio che io conosco anche di persone ad esempio che hanno un positivo in casa e addirittura alcuni degli stessi familiari non sono nell'elenco di coloro che devono stare in quarantena. Ne conosco alcuni di questi casi e magari si sentono liberi di poter uscire e fare spesa. Un caso che mi è capitato ieri nel mio comune di una persona che ha all'interno del nucleo familiare un caso di positività, un familiare è stato in quarantena per i 14 giorni, finiti i 14 giorni la persona positiva lo è tuttora, mentre la persona in quarantena ha concluso la quarantena e chiedeva a me se poteva uscire, se poteva andare a fare spesa. Gli ho detto ma per carità stai buona, stai dentro casa. Quindi occorre in questi casi ormai un po' più di prevenzione diffusa, un po' più di attenzione, come io ho suggerito l'altro giorno, sentivo ieri anche il dottor Valeri che confermava questa tesi, attraverso i medici di base, un po' più di prevenzione, dandogli la possibilità di poterlo fare, quindi dandogli le attrezzature, dandogli il kit di sicurezza, dandogli la possibilità anche di operare una serie di tamponi. Io capisco che i tamponi non si possono fare in maniera diffusa e a tutti è impossibile, ma perlomeno ai casi ritenuti più a rischio o quelli più probabili di positività o ai suoi diretti familiari, io credo questo ormai occorra farlo, perché altrimenti si troveremo sempre di più persone che in uno stadio avanzato di malattia arrivano agli ospedali, uno intasano ospedali, due magari non riescono neanche a risolvere la situazione, tre nel frattempo hanno infettato nei giorni precedenti diverse persone che a loro volta sono dei positivi che girano nel territorio. Occorre concentrarsi a questo punto di più sul territorio, sulla prevenzione diffusa sul territorio, dando anche ai medici di famiglia la possibilità di poter operare. Io chiedo questo da sindaco, ma non è che lo chiedo come, ripeto, atto d'accusa o come qualcuno che ha una ricetta in mano, però credo che dopo un mese, che questa vicenda purtroppo va avanti e durerà ancora a lungo, serva un'attenzione di più verso il territorio.